Avevano realizzato un laboratorio artigianale che riproduce fedelmente in tutti i particolari prodotti in ceramica dell'atun, compresi di bigliettini identici in scrittura e logo a quelli della nota azienda di Bolzano che stavano per spedire a negozi in diverse regioni italiane. A scoprire Madira e Figlia, di 56 e 24 anni, e la loro piccola fabbrica di falsi, sono stati i carabinieri di Belpasso che hanno sequestrato tutto il materiale trovato e denunciato le due donne per contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni e ricettazione. Nel laboratorio sono stati trovati due foglie di carta con la lista degli ordini da spedire, con il numero degli oggetti e il loro costo, 18 bigliettini con il logo del marchio, 232 stampi in silicone per la produzione di prodotti identici ai prodotti originali, 204 prodotti ancora grezzi equivalenti a quelli dell'azienda, 508 prodotti uguali ai originali, un contenitore di gomma siliconata per la realizzazione di stampi, materiale per realizzare e decorare i prodotti, un tablet e uno smartphone utilizzati dalle donne per la commercializzazione. La Thun ha fatto eseguire una perizia sul materiale sequestrato e il loro esperto ha attestato che gli articoli sequestrati riproducono gli stessi soggetti, nonché le stesse soluzioni artistiche e stilistiche, gli stessi richiami simbolici e concettuali, univocamente riconducibili alla Thun e protetti dai depositi e dalle corrispondenti registrazioni per modello industriale nazionale, comunitario e internazionale.